Grazie. Un affresco costruito attraverso le immagini che hanno reso possibile questo viaggio che dà il titolo a questa lezione, a questa conferenza, questo viaggio dall'universo al pluriverso. E mi permetto di proporvi di ascoltare questo mio racconto filosofico come si ascolta un racconto di fantascienza oppure una fiaba, con lo stesso stupore e con la stessa disponibilità ad accogliere immagini, parole inusitate nel linguaggio comune. Che appaiono e che sono esoteriche, che però ci appaiono subito e riusciamo ad accogliere subito come familiari. Quando siamo bambini facciamo l'esperienza di tutto ciò, non chiediamo tutte le volte che ci viene raccontata una fiaba o una storia interrompendola. Ma cosa significa questa parola? Cosa significa questa parola? Le parole, fra virgolette, nuove, inusitate, difficili, non ci spaventano, anzi ci riempiono di stupore, di voglia di ascoltare. E ci aiutano a disegnare un immaginario, cioè un affresco, un repertorio di immagini che ci mette a nostro agio nella nostra vita, nel nostro mondo. In fondo entriamo al mondo attraverso il racconto di storie, di favole, che non descrivono la realtà così com'è, come vediamo nella nostra stanza, ma così come ci viene evocata attraverso queste immagini. Siamo abituati a pensare che questo è il compito della letteratura, delle favole, della poesia. Però quando siamo di fronte alla scienza, le parole inusitate, tutto sommato non molto diverse come tipologia da quella delle fiabe o dei racconti, e subito ci mettono a disagio, ci inducono a fare un passo indietro, a difendersi, a dire, ma io non capisco di scienza. Abbiamo mai detto io non capisco di fiabe, anche quando eravamo bambini? Ecco, allora mi permetto di proporvi di ascoltare queste mie riflessioni filosofiche attraverso la scienza moderna e soprattutto la scienza degli ultimi cent'anni con questo atteggiamento, anche se qualcosa potrà sfuggire, ma senza pensare, ma questo non lo capisco perché non capisco, non conosco la teoria scientifica che c'è dietro. No, stiamo qui, in superficie, come dire, del racconto, prendendo sul serio le parole, e le immagini che queste parole possono evocare dentro di noi. Poi fra le righe c'è la mia riflessione filosofica sul tema che il professor Altini mi ha proposto, e cioè la funzione delle immagini nel mondo, la funzione delle immagini del mondo nella modernità, cioè nella nostra epoca, quella che viene inaugurata dal punto di vista della conoscenza scientifica, da Galileo, eccetera, eccetera, gli altri scienziati filosofi, fino a noi. I corpi celesti, agli inizi dell'età moderna, nel Cinquecento, erano i sette pianeti. Quali erano i sette pianeti? Solo quelli. Luna, Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. E le stelle fisse erano incastonature nel contenitore che segnava i limiti dell'universo, visibili a occhio nudo, i cieli. Lo sgretolarsi, lo sgretolamento dell'immagine del mondo chiuso all'interno di questo contenitore in cui erano incastonate le stelle, lo sgretolamento dell'immagine di un universo finito con al centro immobile la Terra, ha aperto la via all'esplorazione di quello che abbiamo chiamato lo spazio profondo. Questa esplorazione fu iniziata da Galileo. Grazie al suo cannocchiale, Galileo scoprì i quattro maggiori satelliti di Giove, le fasi della Luna, le macchie solari, le orbite delle comete. Quanto alla storia invece dell'universo, ancora nel Settecento questa storia veniva confinata nei margini dei 6.000 anni della narrazione biblica. Nell'immagine di questa storia altrettanto chiusa quanto era chiuso lo spazio nel Cinquecento, la specie umana e l'intelligenza umana erano la suprema vetta di una gerarchia naturale immutabile, creata ab inizio, alle origini. Ma nel corso dello stesso secolo dei Lumi, il Settecento, le prime crepe comparse nell'immagine di questa storia chiusa hanno condotto alla scoperta e all'esplorazione del tempo profondo, questa volta. Questa esplorazione, da chi fu iniziata? Fu iniziata dai naturalisti che alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento disseppellirono i resti fossili di mammut e di dinosauri. La storia naturale oggi si riferisce a scale temporali immense che vanno ben al di là dei 6.000 anni in cui era confinata la storia dell'uomo, la storia della Terra e la storia dell'universo fino a poche generazioni fa. Queste scale temporali sono scale di milioni di anni per quanto riguarda le origini della specie umana e dei nostri immediati antenati. Scale di centinaia di milioni di anni per le origini degli animali e delle piante. Scale di miliardi di anni per le origini del nostro sistema solare, del nostro pianeta e della vita sul nostro pianeta. L'abisso che separa le dimensioni spaziali e temporali dell'universo medioevale, prima del Cinquecento, Seicento, dalle dimensioni spaziali e temporali dell'universo nostro, attuale, è davvero enorme. Nel corso dell'età moderna l'umanità ha vissuto una vertiginosa esperienza di trasformazione del suo immaginario, cioè del repertorio di immagini attraverso i quali si rappresenta il mondo e rappresenta se stessa. Su ciò Heidegger, Martin Heidegger, un grande filosofo del Novecento, ci dà un'indicazione anche sull'importanza di questa trasformazione del nostro immaginario a cui lui forse non pensava, ma a cui noi pensiamo oggi pomeriggio, quando diceva noi non abitiamo il mondo, noi abitiamo le nostre rappresentazioni, le nostre immagini del mondo, il che non vuol dire che viviamo nella speculazione, ma vuol dire quello che ci suggeriva prima il professor Altini, che le nostre immagini del mondo sono qualcosa di reale, di concreto, quanto di più reale e di concreto noi esperiamo. Nel corso dell'età moderna, cioè negli ultimi tre, quattro secoli, quindi l'umanità ha vissuto questa vertiginosa esperienza di trasformazione del suo immaginario attraverso l'esperienza di una decentrazione della sua collocazione nel cosmo. L'ultima tappa di questa radicale decentrazione della nostra collocazione nel cosmo ha avuto luogo con la scoperta del fatto che le galassie dell'universo si allontanano l'una dall'altra a una velocità elevata e dalla scoperta del fatto che la nostra galassia, nella quale, eppure in una posizione periferica, si trova la nostra Terra, che anche la nostra galassia non si sottrae a questo destino. L'effetto è riscontrabile anche dalla nostra Terra. Questa scoperta, da parte di Edwin Hubble, negli anni venti del Novecento, centinaio d'anni fa, ha costituito un primo forte indizio della possibilità di un universo in espansione. In un passato remoto, l'universo era molto piccolo. Anzi, ricostruendo a ritroso nel tempo la storia di questa espansione dell'universo, abbiamo potuto risalire a uno stato iniziale, nel quale il nostro universo sarebbe stato compresso in un punto, in un punto, di densità infinita e di estensione nulla. Prendiamola così, questa immagine. Era compresso, talmente piccolo, ci siamo risaliti, era compresso in un punto di densità infinita e di estensione nulla. Questo è il nucleo dell'ipotesi fondata sull'immagine del Big Bang. Tutta la materia e tutta la radiazione del nostro universo si sarebbero originate a partire da una inimmaginabile esplosione di questo punto di densità elevatissima e di estensione nulla. Dal tempo zero del Big Bang a oggi sarebbero trascorsi circa 13 miliardi e 800 milioni di anni, un po' di più di 6 mila anni, a cui pensavano i nostri trisavoli, per esempio, scienziati. Nello scenario del Big Bang, sulla base della fisica a noi nota, è possibile ricostruire la storia dell'universo fino a risalire alle remotissime ere del passato e fino a tempi vicinissimi al momento dell'origine, quel punto. Ma in questi cent'anni una questione rimaneva aperta. La questione aperta stava nel fatto che le leggi della fisica parevano non valere per il tempo zero, cioè per quel punto di densità infinita. Ci portano fin lì, ma non valgono per quel punto. E questa difficoltà è stata alla base di un raffinamento successivo dell'immagine del Big Bang. Questa è l'ipotesi fondata sull'immagine della inflazione dell'universo. Cosa vuol dire? Alcune caratteristiche del nostro universo sembrerebbero implicare una fase remotissima di espansione rapidissima. Un attimo vero e proprio sulla base delle nostre scale temporali. Questa espansione rapidissima. Questa espansione rapidissima poi sarebbe stata seguita da una decelerazione e da una sorta di normalizzazione dell'espansione dell'universo. L'ipotesi del Big Bang e i suoi sviluppi oggi ci appaiono come una sorta di sintesi molto originale delle immagini, della storia, della conoscenza che si erano alternate e intrecciate nel corso dei 400 secoli e scusate, mi ho preso la mano all'ampliamento del tempo, dei quattro secoli dell'età moderna. Le ipotesi sulla storia, le immagini della storia che studiamo nella storia della filosofia, nella storia della scienza moderna, non sono tanto diversi nonostante le apparenze dall'immagine del Big Bang. Ma la cosa più interessante è che l'affermazione dell'ipotesi del Big Bang sul piano scientifico è stata accompagnata da immagini dell'universo e della nostra relazione con l'universo è stata accompagnata da immagini dell'universo fra di loro opposte. Fra di loro opposte. Ve ne racconto qualcosa ora. Grazie.